Nessun pareggio nei tre anticipi della 31esima giornata del campionato di Serie A, vincono Spezia, Lazio e Torino. In fondo alla classifica la situazione si fa difficile per i lagunari, per i campani. La squadra di Zanetti tiene inchiodato sullo 0-0 la gara contro i Liguri fino al 94esimo, quando Giasi piazza la zampata vincente che regala i tre punti alla squadra di Tiago Motta e che fa fare un passo decisivo verso la salvezza. Il Venezia vede avvicinarsi invece lo spettro di una lotta serrata per mantenere la categoria. Il Torino, nello specifico Belotti, regala la vittoria a Juric che non esultava per i tre punti da otto partite. E' servito il gallo, punzecchiato dal tecnico in conferenza stampa di presentazione, a far sorridere Juric ed è servito un calcio di rigore ripetuto sulla prima battuta parata di Seppe. Jonberg entra in area prima e poi piazza il pallone a Piccinini, fa ripetere. Seconda battuta, Belotti non cambia angolo di tiro ed insacca il gol che vale i tre punti. I tre punti tornano anche alla Lazio dopo la sconfitta nel derby e la squadra di Sarri rialza la testa per continuare la corsa in Europa. Lazzari e Milinkovic e Savice sono i mattatori. L'esterno destro va a segno per la terza volta in campionato e di sinistro il suo piede debole. Il Serbo invece segna la nona reti in campionato in stagione su schema da calcio piazzato. L'assist è di Luis Alberto. Il gol nero verde ha nepposto caduto il Traore.